Madonna, 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 madonna. Che cosa? C'è lui, c'è lui. Ma chi? Va va qua, va va qua, va va qua. Oh, Anna. Ciao. Ciao. Ehm, lui è amico di mio nonno. Piacere, Matteo. Mi piace, mi piace. Come stai? Bene. T'ho chiamato? Sì, era il tuo numero. Sì. Ti richiamavo ora. No, no, infatti, immaginavo che magari... insegnatelo il mio numero, no? Cioè, così sai che so io, quindi vai rispondi, no? Sì, sì. Eh, ora lo insegno il numero. Ok. Io vado? Vabbè. Ciao. Un amico di tuo nonno. Hai visto che è gentile, eh? Non dico proprio di tuo nonno, potevi almeno dire di tuo padre, non so. Scusi, mio nonno è più o meno come te. Ma perché tu quanti anni hai, scusa? 19, quasi. Come quasi? Ma che c'hai 18 anni? Ma che c'hai iniziato, tu? Quasi 17, 16. Più o meno quando inizia a venire te. No, no, non è così tanto. Io sarò al massimo un annetto che venga, non di più. No, no, è da quando ha costruito Cavalcavia? Quasi due anni. Mannaggia, sacrippante, mannaggia. Ma pure tu, quando ti vesti sembri una di... Ma porca miseria, porca. No, 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 no.